La querela per difamazione che Mastella ha sporto contro Calenda andrà avanti e il processo è più vicino per il leader di azione. Con l'astensione di tutti i gruppi di centrodestra e il voto favorevole di PD, M5S, AWS Italia Viva, la giunta delle elezioni e immunità del Senato ha dato l'autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Carlo Calenda. Successivamente il caso passerà all'esame dell'Aula. Il senatore e leader di azione è stato chiamato in causa per un suo tweet, postato il 3 aprile scorso e considerato offensivo nei confronti dell'ex ministro della giustizia, Clemente Mastella, che l'ha querelato. Sul caso è aperto un processo per difamazione aggravata. Il GIP del Tribunale di Roma aveva chiesto a Palazzo Madama di decidere se concedere l'immunità al parlamentare. Carlo Calenda è indagato per un tweet contro Mastella scritto lo scorso 3 aprile. Il GIP di Roma Costantino De Robbio aveva chiesto a Palazzo Madama se concedere l'immunità al leader di azione. Si era in piena campagna elettorale per le elezioni europee e Calenda aveva criticato Emma Bonino per la lista Stati Uniti d'Europa formata insieme a Matteo Renzi e ad altri centristi. Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cufaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto dei valori europei, aveva scritto. Al sindaco di Benevento il leader centrista Clemente Mastella non era andato giù l'accostamento alla mafia e aveva deciso di querelare. Oggi, la Giunta del Senato ha deciso che è giusto processare Calenda per quel tweet. Nel suo intervento messo ai voti la relatrice del provvedimento, Adalo Preiato dell'M5S, aveva chiesto di concedere l'autorizzazione a procedere per sindacabilità delle espressioni di Calenda. Uscendo dalla Giunta, ha spiegato che su questo i gruppi di centro-sinistra erano d'accordo e in effetti hanno votato tutti a favore, compreso il renziano Ivan Scalfarotto. Più variabile sarebbe stata la posizione del centro-destra, secondo la relatrice, Fratelli d'Italia ha avuto un atteggiamento altalenante dando prima l'ok alla mia relazione, poi facendo un passo indietro e oggi un ulteriore timido passo in avanti decidendo di astenersi. Anche la Lega ha scelto l'astensione in Forza Italia, ha aggiunto lo preiato, sembrava voler votare in maniera contraria, così aveva dichiarato. Ma alla fine si è uniformata al resto degli alleati di governo. Infine alla domanda se il voto contrario della Giunta possa aver subito condizionamenti politici da parte delle forze di centro-sinistra, la relatrice ha risposto, non credo che la Giunta debba prendere posizione e fare politica, aggiungendo che pensa che l'autorizzazione a procedere per calenda non verrà ribaltata dall'Aula, quando il procedimento sarà calendarizzato. L'istanza per valutare la sindacabilità o meno delle dichiarazioni è una follia, io ho provato a spiegarlo. Loro mi chiedono un sindacato ispettivo ma io non ho detto quella cosa, come faccio a spiegarglielo? Siamo nel paradosso di Zenone, non se ne esce. La vicenda nel merito è chiusa perché si tratta di un parlamentare che nell'esercizio delle proprie funzioni, e io stavo in campagna elettorale, dice su Cuffaro che è nella cultura mafiosa e su Mastella che non corrisponde a valori europei. Quindi alla recriminazione di Mastella io ho smentito dicendogli, non mi riferivo a te. C'è un punto tra le due frasi nel tweet contestato dall'ex ministro Clemente Mastella. Così il leader di azione è senatore Carlo Calenda, interpellato dall'Ansa sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti, per sindacabilità delle sue dichiarazioni su cui ha poi votato la giunta delle elezioni e immunità del Senato. Quindi l'accusa è insussistente nel merito, ha concluso Calenda, ma cosa succede se una cosa insussistente diventa pretesto di querela per ragioni politiche?